è sufficiente trascurare l'igiene del nostro bagno per una settimana per ritrovarci con quell'alone giallognolo un po marrone dato dall'acqua dello scioccone che si deposita sul fondo del nostro bici e forma subito un'incrostazione poi difficilissima da mandare via difficilissima ma vi assicuro non c'è niente che resiste alla classica miscela che è perfetta per qualsiasi pulizia della casa formata da bicarbonato di sodio e aceto di vino bianco vi assicuro è un rimedio naturale che funziona tantissimo voi lo versate avete visto come ho fatto molto semplicemente all'interno della tazza poi con lo spazzolino del bagno distribuite bene tutto intorno alle pareti anche sotto sulla parte che si nasconde intorno alla tazza del bagno infilate lo spazzolino all'interno 20 minuti saranno sufficienti di posa e poi semplicemente sciacquate ora vi assicuro con molta molta semplicità avrete ritrovato la brillantezza la lucidità della vostra tazza del bagno è molto molto semplice non servono i soliti detergenti aggressivi e chimici che si usano troppo spesso in casa spero che questo video vi sia utile vi sia piaciuto arrivederci al prossimo un abbraccione